Sindaco, questi mercatini vengono definiti una vetrina di carattere internazionale. È una vetrina anche per la città? Più che una vetrina è una benedizione, perché crea le condizioni per che Arezzo sia fruita da oltre 200.000 persone tutti gli anni. Quanto conta, secondo lei, iniziative del genere? Tutte le iniziative che hanno la possibilità di attrarre persone nella nostra città, di indurle a visitarla e bene o male a spendere anche qualche soldo, hanno la caratteristica di essere utili a chi le fa. Secondo lei, per una manifestazione di questo genere, è valida e giusta l'equazione commercio uguale turismo? Sì, io penso che nel caso nostro, questo caso sicuramente sì, perché il commercio di tanti prodotti che provengono da tutte le parti del mondo è sicuramente sinonimo di turismo e di cultura. Noi abbiamo 50 aziende del territorio che in questa occasione dei mercatini internazionali promuoveranno i loro prodotti a livello territoriale, ma non soltanto. Quindi è un momento di contaminazione che sicuramente poi promuoverà il marchio di Arezzo, quantomeno nell'Italia centrale, perché molte dell'affluenza del pubblico è da tutta l'Italia centrale. È giusto riporre aspettative in questa manifestazione? Io direi che in ogni caso è sempre meglio fare qualcosa che non fare nulla. Questo serve in ogni caso, direi che forse è l'ora di smetterci di piangersi addosso e di guardare con maggiore positività verso il futuro. E quindi utilizzare tutti gli strumenti, questo territorio, questa città, e sono tanti potenzialmente, per costruire qualcosa di positivo verso il futuro.